L'Under 21 si appresta ad affrontare Cipro, discutetene e parlatene con il commissario tecnico di Arangelo Mazzaroli. Hai avuto un avvicinamento un po' complicato questa partita, ovviamente per colpa di nessuno perché la ricchiazza non era prevedibile, un po' magari come funzionato vuoi togliere? No, è difficilmente raccontabile una situazione del genere, sono convinto che se la natura di Cipro sa quello che abbiamo passato in questo mese, potrebbe dormire a sonni tranquilli però magari non conosce i ragazzi, io invece li conosco molto bene, sono convinto che nonostante le difficoltà hanno un atteggiamento estremamente positivo, hanno cercato di fare il possibile per essere pronti in base alle difficoltà che si sono venute a creare, poi li conosco dal punto di vista mentale, è una squadra che è cresciuta molto, ha molta più fiducia, molta più consapevolezza e sono convinto che tirano fuori una grande partita. Quando avevo dato di nascita hai un sacco di giocatori che addirittura potrebbero giocare l'anno e l'anno e l'anno? Viviamo una realtà che siamo sempre in sofferenza perché è un bienio che racchiude dei ragazzi che hanno parecchi problemi, molti fanno l'università, chi si avventura nel mondo del lavoro, quindi sono giocatori che fanno fatica a fare determinate scelte a meno che non fanno attività professionistiche, quindi dobbiamo assolutamente e continuamente attingere annate antecedenti a quelle che sono dovute. Poi manca anche Golinucci Alessandro che ha avuto la febbre all'ultimo momento, se no era tra i convocati, quello che gioca una San Maurese con Bernardi, manca qualche 93, però fa piacere sotto un altro punto di vista perché sono ragazzi che vanno a giocare fuori, si stanno mettendo in discussione, fanno dei sacrifici e sono convocati meritatamente. È chiaro che avere giocatori con una certa esperienza, con una certa mentalità è sempre un vantaggio, però ecco, magari questa loro giovane età possa trasformarsi in esuberanza in campo e darci magari maggiore vitalità all'interno della stessa partita. Certo, l'emergenza è chiaro che alla lunga si fa, è stata l'emergenza campo e qualcuno che ti manca, però probabilmente può dare quella scossa per dare qualcosa in più, per fare la partita, non dico la partita perfetta, però per chiederti, al di là dei disagi della neve, se trovi una chiave per poter volgere, non dico al positivo, ma per poter tradurre comunque due o tre settimane. Sì, è una situazione psicologica su cui stiamo lavorando all'interno anche dello stesso staff, con i ragazzi, i ragazzi sono consapevoli di quello che hanno vissuto in quest'ultimo mese e mezzo, soprattutto i ragazzi dell'interno, perché poi il fenomeno neve è andato a seguire alla sosta natalizia, quindi è stata una cosa sommatoria che ha degenerato un po' tutta la situazione dal punto di vista atletico, però in questo momento abbiamo una certa maturità e indipendentemente dall'avversario che andiamo a affrontare, io invece mi fido molto dei ragazzi, toccare in questo momento certi tasti ormai non ha più ragione di essere, secondo me vanno toccati altri tasti che sono quelli della crescita, dell'organizzazione e ultimamente partite come in Grecia contro la Bielorussia o anche lo stesso secondo tempo con la Germania dopo aver subito quel primo tempo un po' scioccante 5-0, hanno dimostrato che i ragazzi stanno iniziando ad avere la pelle dura per certi tipi di partite. Inizio, Pier, la partita è andata, come c'è, però forse è una delle peggiori che hai forse, l'hai ricordato? No, no, assolutamente, ma con i ragazzi ne parliamo spesso, la prendiamo ad esempio come non bisogna corsi di fronte a certe partite, fu la prima dopo neanche un mese dal sorteggio, dovevamo creare un gruppo tutto nuovo, giocatori senza nessun tipo di esperienza di questo tipo perché l'anno 17 e l'anno 19 sono ottimi livelli ma qui iniziamo a giocare contro giocatori già titolari in squadre professionistiche, avevamo anche quella volta dei problemi di formazione, inventammo tante cose che non portarono nulla, i grandissimi gol derivarono anche dal caso, da infortuni, da timori troppo reverenziali anche per la squadra, andò tutto storto anche nel viaggio perché fu un viaggio incredibile che vabbè però non deve essere un alibi, però ecco, le sconfitte, la nazionale di San Marino se non usa le sconfitte per essere più intelligente vuol dire che è presuntuosa, noi presuntuosi non le facciamo, non li vogliamo essere e dalle sconfitte dobbiamo entrare sempre gli aspetti più importanti, positivi per poter crescere. Prova a metterli in cima con la formazione? Ma 6 undicesimi sono sicuri, su 5 veramente aspetto allenamenti di stasera, comunque è in porta giocherà sicuramente Manzaroli, poi in base se giochiamo 4-1, 4-1, 5-4-1, due centrali sicuri saranno Brolli e Della Valle, se giochiamo con tre centrali Muraccini farà l'altro centrale perché è venuto meno anche Genghini nelle ultime ore, a centrocampo giocherà sicuramente Gasperoni, non so chi lo affiancherà ancora e davanti, non essendoci né Dolcini né Stefanelli, sarà un balottaggio tra Angelini e Bernardi. Sugli esterni, bassi e alti, abbiamo giocatori molto d'utili che possono fare entrambi i ruoli, Ciavatta, Buscarini, Maiani, Battistini possono alternarsi sia nell'esterno basso e nell'esterno alto.